Nel video di oggi parleremo di come calcolare le imposte sull'acquisto della casa. Le imposte sull'acquisto della casa sono una voce importante da prendere in considerazione quando si decide di acquistare un immobile. Il valore di acquisto totale non è dato solo dal prezzo richiesto dal venditore, ma anche dalle imposte, dai costi notarili e spesso da quelli dell'agenzia immobiliare. È importante conoscere esattamente ciò che andremo a pagare per evitare spiacevoli sorprese. Potresti trovare l'immobile dei tuoi sogni, ma scoprire che le imposte da pagare sono così alte da farti desistere dalla compravendita. Devi sapere che il sistema di calcolo delle imposte si basa su alcuni principi fondamentali, quali il fatto che il venditore sia un soggetto IVA oppure no, che tu stia acquistando una prima o una seconda casa. E inoltre è importante conoscere la categoria catastale. È fondamentale capire se per l'acquisto è possibile esuffruire del vantaggio dato dal sistema prezzo-valore. Ti spiego velocemente cosa intendo per prezzo-valore. Dal 2006, in certe circostanze, è possibile calcolare le imposte basandoci sul valore catastale dell'immobile e non sul prezzo dichiarato in atto. Facciamo un semplice esempio per capire le differenze, ammettendo che tu stia comprando la tua prima casa. Per la seconda casa il discorso è simile, ma cambiano alcuni coefficienti. Quindi, questo è l'esempio. Tu ed il venditore avete fissato il prezzo di vendita a 150.000 euro e la rendita catastale dell'immobile è pari ad 800 euro. Se per il calcolo dell'imposta di registro utilizzassimo il prezzo di vendita, dovresti pagare 150.000 euro per 2%, perché l'imposta appunto è pari al 2%, per avere una cifra pari a 3.000 euro. Con l'applicazione invece del prezzo-valore dovremo prima calcolare il valore catastale della casa, partendo dalla rendita catastale. Per fare questo, moltiplicheremo la rendita, che in questo caso è di 800 euro, per due coefficienti 1,05 e 110. Allora, la moltiplicazione del tutto dà 92.400, semplifico il tutto. Però, se vuoi vedere i calcoli perfetti, puoi andare sul nostro sito ricasare.com e trovare l'articolo dedicato appunto a questo argomento, dove appunto è presente questo esempio, ma abbiamo messo a disposizione anche altri strumenti, dopo te li descriverò. Calcoliamo ora l'imposta di registro al 2%, appunto con questo valore, 92.400 per 2% è pari a 1.848 euro. Quindi la differenza è palese, risparmieresti infatti una bella cifra. Come già detto prima, vi sono tanti aspetti da considerare nel calcolo delle imposte, per cui, se hai bisogno di informazioni, ti invito a leggere, come dicevo prima, il nostro sito. All'interno è presente la guida fiscale delle agenzie alle entrate, che è molto esaustiva. Abbiamo messo a disposizione anche un altro strumento, che è un calcolatore, e qua potrai fare un calcolo molto veloce. Io credo che con questo video sia tutto, spero che ti sia servito, ci sentiamo presto. Alla prossima!